I lavoratori della zona industriale sono preoccupati per le condizioni in cui versa la strada costruttiva a servizio della zona industriale della Vazzinello. La strada è realizzata alla fine degli anni 80 del secolo scorso. Dalla data della realizzazione praticamente non ha mai avuto un serio intervento di manutenzione. Negli ultimi anni, anche in considerazione dell'usura della strada, le condizioni sono veramente divenute disastrose. A dichiararlo il sindaco di Gissi, Agostino Chieffo, in occasione del sit-in di protesta che si è svolto oggi nella zona industriale di Gissi. Sotto la lente di ingrandimento di aziende, amministratori locali, sindacati e lavoratori, c'è la strada di proprietà dell'Arap che attraversa decine di insediamenti produttivi presenti e che si collega con le provinciali 150 e 154. Le richieste vanno avanti da anni ma non sono ancora state ascoltate. Creano un pericolo sia per la sicurezza degli autobili, dei lavoratori e delle lavoratrici che vengono al lavoro sia un grosso ostacolo per gli autotrasportatori che si servono e forniscono le aziende di lavazzinello. Questo è un peccato perché questa è una zona industriale che negli ultimi anni è in crescita. Sono sostanziali delle aziende importanti sul nostro territorio, su questa zona industriale. molte altre sono interessate alla nostra zona industriale, creano occupazione, creano lavoro dando tante opportunità ai giovani dei centri interni. Quindi è un peccato che gli imprenditori vengono disincentivati a stanziarsi su questo territorio dalle condizioni della strada e quelli che ci stanno hanno una grossa difficoltà proprio perché gli autotrasportatori a volte si rifiutano di venire in questo territorio dalle condizioni della strada. Oggi la protesta quali saranno i prossimi passi? La protesta è soltanto la punta dell'iceberg e questo è un movimento che va avanti da anni per segnalare le condizioni di questa strada e per chiedere all'Ara, in particolar modo che l'ente proprietario della strada, di adoperarsi per reperire le risorse e per fare le manutenzioni straordinarie necessarie a questa strada. Continueremo sicuramente su questa via e l'amministrazione comune di Gissi che rappresento rimarrà sempre al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori e degli imprenditori dell'azienda industriale. I lavoratori delle aziende presenti nella zona industriale hanno raccolto oltre 600 firme. Presente sul posto anche il consigliere comunale Lino Dercole, promotore dell'iniziativa. Perché molti mi dicono tu sei un consigliere comunale, allora questa strada non è competenza del comune di Gissi ma è dell'Arap Abruzzo, però essendo un dipendente oramai da 31 anni che tutti i giorni vengo in questa zona industriale, mi sono fatto promotore. Questo è un primo passo di quello che vorremmo cercare di fare. Allora adesso siamo arrivati sulle 600 firme, ma qui possiamo andare avanti all'infinito perché le lamentele ne sono tante, sia dipendenti di tutte le aziende. Oggi abbiamo fatto una manifestazione, giustamente non tutte le aziende possono partecipare per via dei turni e quant'altro, però in molti, chi mi ha telefonato, chi mi ha detto, segnalano costantemente questa situazione. Preciso, non è una strumentalizzazione politica, a me non interessa questo. Quello che noi stiamo cercando di far arrivare, sensibilizzare, è quello di una strada che non garantisce la sicurezza. Noi tutti i giorni passiamo qui, la sera usciamo, specie nel periodo invernale con il buio, non c'è l'illuminazione, dove c'è funziona a tratti, semafri non funzionano più, pensiline che sono rotte, pensiline che si reggono con treppiedi, le compagnie dei trasporti si lamentano perché non hanno degli spazi adeguati per potersi accostare e quindi, insomma, è un disagio troppo forte. E' un problema assolutamente da risolvere perché così non si può andare avanti. Ripeto, noi rischiamo tutti i giorni. Queste firme dove andranno? Io, il mio obiettivo è quello di mandarlo al prefetto per mettere a conoscenza di questa situazione. Dopodiché vorremmo fare un ingondro, quindi a livello istituzionale, come comune, come, ripeto, le associazioni degli imprenditori, con il Presidente Arap. Massimiliano Recinella, Femca CISL, si protesta qui nell'area industriale per un problema annoso. Ecco, avete anche raccolto delle firme. Cosa chiedete all'Arap? Allora, questo è un problema ormai che ha radici profonde. Purtroppo io sostengo che siamo arrivati al fatto di considerare che i lavoratori di questo territorio sono figli di un dio minore. Le aziende, le lavoratrici e i lavoratori hanno dei svantaggi, dei disagi a lavorare in questa zona industriale, uno dei quali è il mando dell'asfalto, che è arrivato in condizioni di indecenza. L'illuminazione, visto e considerato che siamo d'inverno, alle 4 di pomeriggio fa notte, quindi anche si genera un forte problema legato alla sicurezza. Chiaramente sono problemi che stiamo denunciando già forse da più di 10 anni. Siamo arrivati al momento che qualcuno li prenda in considerazione e li risolva. A denunciare la situazione di degrado ha anche Enzo Mirolli, titorale della Mirolli SRL. È evidente il degrado della strada e quello che mi viene fatto notare, soprattutto oltre che quotidianamente dai miei dipendenti, tra i quali una ragazza proprio la settimana scorsa ha danneggiato la propria macchina, anche i miei clienti mi fanno notare che questo territorio è bellissimo, però la strada per arrivare alla nostra azienda è completamente degradata e ce lo fanno notare. E questo è un problema per voi? Per noi non è un problema perché per fortuna riusciamo comunque ad offrire un buon servizio e il territorio ci permette di attrarre i nostri clienti che soprattutto quando vengono dall'estero vedono che hanno piacere di venire qui perché il territorio sappiamo tutti quello che ci offre e quanto è bello, però ovviamente farsi notare con una battuta il degrado delle strade ti mette in una condizione di disagio e di imbarazzo. Quindi mancano infrastrutture e servizi? Assolutamente sì, credo che questa zona industriale che era data per persa negli ultimi anni da parte di un po' di tutti, secondo me deve essere rivalutata in un certo modo perché la nostra azienda che è stata acquisita nel 2020 siamo passati da circa 25-30 dipendenti ad avere un'azienda con circa 60 dipendenti più tutto l'indotto che ci gira intorno alle varie commesse. quindi noi abbiamo rivalutato e siamo andati oltre le aspettative rispetto a quello che ci eravamo programmati e questo significa che l'importanza di questo territorio è notevole e non deve essere sottovalutato e quindi ci aspettiamo da parte degli enti, in questo caso di Arap, un intervento immediato senza giri di parole e senza risposte date a caso.